Ne parliamo con Pino Scaccia, storico inviato del Tg1, che fu tra i primi a regarsi sul luogo del sisma. Come in tutti i terremoti, la tragedia si scopre piano piano. Io ricordo appena arrivato, impegnato nel servizio, avevo a malapena il tempo di registrare quello che avveniva. La prima tappa per me è stata quella dell'ospedale, per cui c'era l'evacuazione dell'ospedale, che era comunque un evento a sé stante. E piano piano, soprattutto di notte, nel momento in cui scoprivamo l'Aquila, ci siamo tutti resi conto della grande tragedia, che era molto più vasta di quella che poteva sembrare all'inizio. Nel centro storico, quello che da lontano non si percepiva, da vicino, era terribile. C'erano palazzi letteralmente squarciati, delle vie che sembravano fossero state toccate dal terremoto, poi nella stessa via, magari in fondo, c'era un palazzo letteralmente raso al suolo. Quindi questo dramma scoperto piano piano, passo dopo passo, giorno dopo giorno, è stata la vera grande tragedia. Nella sua esperienza di inviato, le è capitato di trovarsi sul posto in occasione di altri sismi che hanno colpito l'Italia negli ultimi anni? Penso all'Irpinia o al Friuli? No, non quelli perché sono molto lontani. Io ho seguito per sei mesi di seguito quello Umbria-Marche, quindi non c'era Umbra, Gualdo Tadino, quello che va sotto il nome, i terremoti col Fiorito, che è il confine appunto tra Marche e Umbria. Lì è stato terribile soprattutto in quel caso per la lunghezza, è durato sei mesi. In realtà poi i tecnici hanno spiegato che si trattava di due terremoti, sei mesi veramente terribili. Insomma, forse non danni come quelli dell'Aquila, però questo stilicidio discorso è che poi diventa un incubo. È drammatico per la popolazione vivere tremando. E invece per quanto riguarda quello che è stato fatto per la prima emergenza e la ricostruzione, lei se la sente come cittadino di sbilanciarsi su un'opinione per quello che ha visto, per quello che in virtù del suo mestiere ha sentito? La prima fase, quella dell'emergenza pura, non c'è da fare nessun appunto. La protezione civile purtroppo è abituata con i disastri di continua incisione in Italia a gestire queste emergenze. Quindi è stato il primo intervento, quello immediato di salvaguardia della popolazione e di assistenza, è stato sicuramente irriprensibile. Già il giorno dopo erano state montate 3.000 tende, insomma, quindi sul piano puro della prima emergenza non mi sento a fare nessuna critica. È chiaro che i problemi nascono sempre e dopo, una volta salvaguardata la sopravvivenza della gente, ovviamente i problemi sorgono dopo quando si tratta di ricostruire o comunque di dare una sistemazione un po' più stabile, diciamo, alla popolazione perché intenda poi vivere il primissimo periodo. In qualche maniera, qualche intervento buono è stato fatto, certamente non ha soddisfatto tutti, c'era anche da accogliere tutti quelli poi che erano sfollati verso il mare, eccetera. Insomma, qualche problemino c'è stato, non si sa bene che le responsabilità, poi c'è sempre un rimpallo di responsabilità tra il comune e il governo, eccetera. Certamente la terza fase è quella più difficile poi, che è quella attuale, che dovrete trovare all'Aquila, quella appunto della ricostruzione vera sul lungo periodo, quindi rimettere in piedi una città, una grande città come l'Aquila che di fatto è stata devastata, è un centro storico che non esiste più e i veri problemi sono questi.